Eccoci, buonasera, forse lo sapete già se avete seguito la nostra lunga straordinaria. Insomma, Silvio Berlusconi condannato a sette anni e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici al termine del processo di primo grado per la vicenda Rubi. Sei anni per concussione, per costruzione ai danni dei funzionali della questura di Milano pressati dalle telefonate del Premier in quella notte del maggio di tre anni fa e un anno per aver utilizzato la prostituta minore Rubi. Questa è la sentenza che inasprisce la richiesta che era stata formulata nella requisitoria da Ilda Bocassini, PM del processo, oggi assente e sostituita per presenziare alla lettura della sentenza dallo stesso procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati. Seguiremo tutto adesso nel nostro telegiornale perché sentiremo la sentenza, le reazioni sia dei difensori sia del PM San Germano che ha tenuto l'accusa per tutto il processo insieme alla Bocassini. Sentiremo le reazioni durissime della Sant'Anché, più morbide di Alfano, ma sentiremo anche le parole durissime a sua volta di Marina Berlusconi, figlia dell'ex Premier, ma anche la richiesta perentoria di lasciare la politica da parte di Nichi Vendola e il tentativo di tenere lontana la sorte del governo da questa sentenza da parte del Partito Democratico. Ma è evidente che questa sentenza si farà sentire e come sul quadro politico. Un quadro politico che peraltro viene toccato anche dall'esito delle elezioni siciliane. A sorpresa non vince il centrosinistra né a Messina, dove aveva il 49-9 dopo il primo turno del suo candidato, né a Ragusa, dove vince l'esponente del Movimento 5 Stelle. Ma più ancora il quadro politico viene toccato dalle dimissioni, ormai rese quasi inevitabili nelle ultime ore da tutto quello che è successo, e formalizzate un'ora fa da parte di Josefa Idem, da Ministro per lo Sport e soprattutto per le pari opportunità. Le dimissioni sono state già accolte da Enrico Letta, che ha precisato che non sarà sostituita la Idem. Le sue deleghe verranno redistribuite tra altri esponenti del governo. Vedremo da chi. Ci sarà spazio anche per il nostro sondaggio, ma siccome l'abbiamo fatta a lunga prima, con le tre ore della nostra edizione straordinaria, se sono pronti, vediamo insieme i titoli del nostro giornale. Condannato a sette anni e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, Silvio Berlusconi per i reati di concussione e prostituzione minorile. E questa è la sentenza emessa dopo sette ore di Camera di Consiglio dai giudici del Tribunale di Milano. Un anno in più di quanto richiesto dal PM Ida Bocassini. Rischiano il processo per falsa testimonianza le cosiddette olgettine, ma anche alcuni parlamentari, Mariano Apicella e la funzionaria della questura Giorgia Iafrate. Durissime le reazioni degli esponenti del PDL, che dicono che a Milano è stata calpestata la giustizia. Il viceprevere Angelino Alfano definisce ingiusto il verdetto e annuncia di aver sentito Berlusconi invitandolo a tenere duro e andare avanti. Marina Berlusconi, figlia dell'ex premier, parla di un processo concepito per sfregiare il nemico politico da demolire e non per stabilire la verità dei fatti. Oggi la condanna del processo Rubi. Giovedì prossimo è atteso forse una sentenza importante sul lodo Mondadori. E proprio in quel giorno l'ex premier dovrà affrontare l'udienza preliminare a Napoli per la presunta compravendita di senatori. Ma dopo il no della consulta mercoledì scorso al legittimo impredimento nel processo Mediaset, l'appuntamento più tenuto è quello definitivo della Cassazione su quel processo entro la fine dell'anno. Giuseppe Aydem si è dimessa dall'incarico di ministro delle pari opportunità e dello spot. L'annuncia al termine di un incontro questo pomeriggio col premier Letta. Ho tenuto duro in questi giorni, ha detto la Aydem, perché in tanti mi avevano detto che in questi momenti fanno parte del gioco. Come persona mi sarei dimessa da giorni per insulti e accuse aggressive e violente. Resta il fatto che la sua posizione sarà fatta insostenibile. Sorpresa ai ballottaggi dell'amministrativa in Sicilia. Nei capoluoghi il PD vince a Siracusa, ma a Ragusa vince nettamente l'esponente del Movimento 5 Stelle, mentre il candidato indipendente della lista no ponte vince a Messina. Il dato più preoccupante, oltre a queste sorprese, è il crollo dell'affluenza. Ha votato il 46% degli avventi diritto, il 22% in meno rispetto al primo turno. Il nostro sondaggio del lunedì vede tutti in calo di consensi PD, PDL e Movimento 5 Stelle. Il PDL è al 27% e ha 0,8% di distacco dal PD, che al 27,8% non si ferma. L'emoragia del Movimento 5 Stelle è al 17,9%. Oggi lascia il Movimento anche un altro parlamentare vinci guerra. Sarebbe ancora a Mosca, Edward Snowden, l'ex analista della CIA accusato di spionaggio. Sta bene insieme ai suoi avvocati, spiega in una conferenza stampa telefonica Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. Kerry, segretario di Stato americano, ha definito molto grave il comportamento delle autorità cinesi di Hong Kong e di quelle di Mosca. a cui è stata chiesta la consegna immediata del giovane informatico, fonte del DataGate, che tanto imbarazza la Casa Bianca. Buonasera, allora alle 17.20 di questo pomeriggio, Silvio Berlusconi ha sentito, forse dalle televisioni, forse in altro modo, la voce del Presidente della Corte, combinargli la condanna più grave fino a oggi è subita. In nome del popolo italiano, il Tribunale ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza. Visti gli articoli 521,1, 533 e 535, Codice di procedura penale, dichiara Berlusconi Silvio, colpevole del reato agli uiascritti, qualificato il fatto di cui ha capo A dell'imputazione come concussione per costrizione, ex articolo 317, Codice penale, nuova formulazione. E ritenuto la continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza, dopo 7 ore di Camera di Consiglio, arriva più dura delle richieste della Procura, un anno in più. Alla parola concussione viene aggiunta una sola locuzione per costrizione, che non lascia spazio a dubbi sulle pressioni che Berlusconi fece sui funzionari della Questura per liberare la minorenne Rubi. Un reato legato a doppio filo all'altro, la prostituzione minorile. L'allora Premier, secondo le accuse, voleva coprire il suo rapporto con la giovane marocchina e quindi toglierla il prima possibile dalle mani dei poliziotti che l'avevano arrestata per furto. Viene accolta poi in pieno anche la richiesta più temuta per l'ex Premier, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tre giudici donne firmano il verdetto, che come per una legge del contrapasso condanna l'ex Premier per il sistema prostitutivo che la Boccassini aveva descritto nella sua requisitoria. La Boccassini oggi non c'è, un periodo di ferie è già fissato da tempo. Il processo sarebbe dovuto andare a sentenza molto prima, ma legittimi impedimenti e malattie di Berlusconi hanno ritardato il giorno del verdetto. Accanto al PM San Germano c'è però il capo della procura, Bruti Liberati. Due anni e mezzo dopo l'avvio dell'inchiesta, la sentenza arriva per l'unico imputato Silvio Berlusconi, dopo 50 udienze e diversi duelli tra accusa e difesa. 40 testimoni hanno fatto rivivere in aula le serate di Arcore, cene eleganti con ingenui spettacoli di burlesca per la difesa e lo stesso Cavaliere, serate a luci rosse, con travestimenti, balletti e modi di fare inequivocabili per l'accusa. Ma proprio dalle testimonianze è arrivato oggi il colpo di scena del processo. I verbali di una ventina di testimoni sono stati rinviati alla procura. Si profila il reato di falsa testimonianza. Tra loro molte delle cosiddette oggettine, che ancora oggi sono a libro paga di Berlusconi, e anche l'esponente Pdl Valentini, la senatrice Maria Rosaria Rossi, e perfino il commissario Iafrate, che in aula disse di non essersi mai sentita pressata dalle telefonate di Berlusconi. E in questo momento è arrivata una dichiarazione proprio di Berlusconi. La leggo insieme a voi. Ero veramente convinto che mi assolvessero, perché nei fatti non c'era davvero nessuna possibilità di condannarmi. E invece è stata emessa una sentenza incredibile di una violenza mai vista né sentita prima, per cercare di eliminarmi dalla vita politica di questo Paese. Non è soltanto una pagina di mala giustizia, un'offesa a tutti quegli italiani che hanno creduto in me e hanno avuto fiducia del mio impegno per il Paese. Ma io, ancora una volta, intendo resistere a questa persecuzione, perché sono assolutamente innocente, non voglio in nessun modo abbandonare la mia battaglia per fare dell'Italia un Paese davvero libero e giusto. Questa è la prima reazione che è arrivata proprio in questo momento di Berlusconi. Ma sentiamo invece le reazioni di chi al processo ha partecipato da parte della difesa e dell'accusa. L'uscita è quella di sempre, accanto alla scalinata del Palazzo di Giustizia di Milano, per intenderci quella dove i neoletti del PDL cantarono settimane fa l'inno di Mameli. Esce sorridente l'avvocato onorevole Niccolò Ghedini, anche se sa che la sentenza di poco prima è un maccino da spostare in appello in Cassazione. Nella ringa del 3 giugno avevo anticipato che ero convinto che avrebbero dato di più di quello che aveva chiesto la Procura. Quindi non mi sorprende affatto, sono due anni e mezzo, tre anni, che diciamo che qui questo processo non si poteva fare. Sono andati addirittura al di là delle richieste della Procura, addirittura come qualificazione giuridica del fatto. Costrizione e induzione. Quindi, guardi, era una sentenza per me larghissimamente attesa, faremo appello, poi faremo ricorso per Cassazione. Guardi, non è questione di sentenza politica o non politica, è una sentenza che è completamente al di fuori della realtà e al di fuori degli atti processuali. E il primo a parlare era annunciata anche una conferenza stampa della Procura, nell'ufficio al quarto piano del Procuratore Bruti Liberati, ma dopo la lettura del dispositivo si preferisce annullare tutto e così il nostro coronista Marco Lanza strappa questo commento al PM Antonio Sangermano che insieme a il Dabbo Cassini ha condotto indagini e accusa anche nel processo gemello in cui, per il giro delle ragazze ad Arcore, sono imputati Minetti, Mora e Fede. Soddisfatto della sentenza? La sentenza ha riconosciuto la bontà dell'impostazione accusatoria. E' bene ricordare che in Italia vice per tutti, anche per Berlusconi, la presunzione di non colpevolezza, ma le dichiarazioni eventualmente le farà il Procuratore per cortesia. Non è piaciuta ai difensori la presenza in aula del Procuratore. Non credo che avessero gran bisogno di essere pressate questi giudici, ma però l'ho trovato una cosa non molto consona alle vicende usuali. Io non ho mai visto scendere un Procuratore capo per assistere i giudici che vanno in Camera di Consiglio. Si chiude così il primo grado del processo, tra i tanti istruiti a Milano, più imbarazzante per il Cavaliere. Lo testimonia la presenza di truppe televisive, assenti alle sentenze sui fondi neri Mediaset, condanne per reati pesanti, ma questo dibattimento è stato diverso. Sorrideva Ghedini dopo la sentenza. Anche l'altro avvocato onorevole, Piero Lungo, nell'attesa questa mattina, aveva imboccato la strada dell'ironia. Potrebbe avere influenza il fatto che a Milano... No, per nulla. Berlusconi a Milano è trattato sempre con grande garbo, con grande attenzione, con grande signorilità. Fare i processi a Milano per Berlusconi è un privilegio. Non l'ho capito bene. Non le è piaciuta questa? L'aria era quella di chi sapeva che le cose potevano mettersi male, ma forse non immaginava che le tre donne magistrato che hanno scritto la sentenza di oggi potessero essere addirittura più severe di Ilda Boccassini che oggi non c'era e, come sempre, non ha commentato. È chiaro che questa sentenza grava di un anno, la pena per Berlusconi rispetto alla richiesta di Ilda Boccassini, perché a suo carico viene messa in atto la condanna per concussione, per imposizione e non per induzione, costrizione e non induzione a carico di Berlusconi per averla effettuata e tentata e perfezionata ai danni dei due funzionari della Questura, una delle quali, tra l'altro, andrà ulteriormente indagata secondo il dispositivo e secondo quanto letto in aula dal Presidente della Corte per falsa testimonianza insieme ad altre 19 persone. Ma è il tempo delle reazioni, non solo quelle all'interno del PDL, che come si è già capito dalle parole di Berlusconi stesso sono durissime, ma anche dei suoi avversari e degli altri esponenti politici. Il più duro è Vendola, che chiede senza mezzi termini a Berlusconi di ritirarsi. Dopo la lettura della sentenza, il Vicepremiere Alfano telefona subito a Berlusconi. L'ho chiamato, fa sapere con una nota, per manifestargli la più profonda amarezza e l'immenso dolore di tutto il PDL per una sentenza contraria al comune senso di giustizia, al buonsenso e peggiore di ogni peggiore aspettativa. L'ho invitato a tenere duro e ad andare avanti. L'entità della condanna, anche se pochi avrebbero scommesso su una soluzione, è uno shock per il PDL. Dal quartiere generale arriva una pioggia di reazioni dure. Una sentenza abnorme e surreale, con un colpevole e nessuna vittima, dice il capogruppo al Senato Schifani. Per quello alla Camera, Brunetta, è una sentenza che fa paura e arriva a immaginare un intervento del capo dello Stato. Non lo tiro per la giacchetta, sta alla sua coscienza come primo magistrato d'Italia, spiega. Ritengo che alla irresponsabilità di questo nucleo di magistrati e delle forze editoriali e finanziarie che li sostengono, bisogna rispondere con il senso di responsabilità per un verso, ma dall'altro lato con una protesta fortissima, perché è evidente che in Italia lo Stato di diritto è stato cappestato. Mi auguro che il colpo di Stato giudiziare non riesca e il quadro politico tenga precisa, perché la domanda, ora dopo la pesante condanna, è se regga ancora la linea della responsabilità ribadita da Berlusconi mercoledì scorso, dopo la pronuncia sfavorevole della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento nel processo Mediaset. Subito dopo aver ascoltato la lettura della sentenza in aula, la Santa Anchea esclude ripercussioni per l'esecutivo. Il governo e l'ingiustizia non c'entrano, nel senso che noi, questo governo, il Presidente Berlusconi l'ha voluto più di tutti, vogliamo l'azione di governo, vogliamo che si facciano le cose che servono agli italiani, per cui non c'entra. Reazioni con il contagocce dal resto della maggioranza di governo. Il PD commenta con una secca nota. Prendiamo atto della sentenza, come sempre esprimiamo rispetto per le decisioni, di qualunque segno siano, che la magistratura prende nella propria autonomia. L'opposizione va all'attacco. Sarebbe un atto di decoro da parte di Berlusconi abbandonare la vita pubblica. Le sentenze vanno rispettate e applicate, incalza il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Morra. Noi porremo il tema dell'inelegibilità di Berlusconi dal prossimo 9 luglio nella giunta per l'elezione di Palazzo Madama. Il PD non offra salvacondotti. Prima di sentire il parere contrapposto di due giornalisti che anche su questo argomento la pensano diversamente, Marco Travaglio e Mario Secchi, e due parole sul fatto che ha preso posizione durissimamente a difesa del padre anche Marina Berlusconi, che molti indicano come il possibile rede politico del Cavaliere. La condanna era scritta fin dall'inizio, nel copione messo in scena dalla Procura di Milano. Mio padre non poteva non essere condannato, ma se possibile il Tribunale è andato ancora più in là superando le richieste dell'accusa e additando come spergiuri tutti i testi in contrasto con il suo teorema. Non ha alcuna importanza che dopo anni incredibilmente passati a spiare dal buco della serratura non siano riusciti a trovare nulla perché nulla c'era da trovare. Fin qui Marina Berlusconi, sentiamo Travaglio e Secchi. Solo un paese mitridatizzato alle bugie può meravigliarsi di questa sentenza. In realtà questo è un processo i cui fatti erano stranoti ben prima che uscisse la sentenza di condanna di oggi. Le telefonate di Berlusconi alla Questura per costringerne i funzionari a liberare rubi contro la legge sono addirittura registrate e incise nei nastri della Questura e quindi non c'è nulla da provare. Sul fatto che Berlusconi si facesse traghettare carrettate di 30-40 ragazze tra cui diverse prostitute e alcune minorenni in casa anche questo non ci sono dubbi lo hanno detto tutti i testimoni l'unica cosa da capire era se lui le portasse in casa propria e le facesse in parte dormire con lui così per mostrare loro la sua collezione di farfalle o di franco bolli o se invece quando uno si fa portare delle prostitute in casa poi ci voglia fare altro. Credo che in un paese a suo effatto alle bugie dove centinaia di politici, di giornalisti ci tengono proprio a fare la figura dei fessi almeno il Tribunale di Milano si è dimostrato impermeabile alle bugie quindi ha deciso di non fare la figura del fesso e ha sentenziato di conseguenza c'era giusto da vedere quanto sarebbe stata la pena quali sarebbero stati i reati le giudici con grande autonomia rispetto alla Procura hanno cambiato il reato da concussione per induzione a concussione per costrizione se ne può discutere ma insomma sono dettagli quello che importa sono i fatti e i fatti erano noti per chi li voleva conoscere e valutare anche prima adesso naturalmente tutti a domandarsi che farà Berlusconi farà saltare il tavolo del governo delle larghe intese ma figuriamoci dove lo trova un altro governo dove la può fare da padrone L'inchiesta sul burlesque ha un esito e una sentenza che definirei grottesca nella quantità a sette anni interdizione perpetua ai pubblici uffici e nella qualità perché a mio avviso durante il dibattimento la prova non si è manifestata ha deciso un collegio di sole donne a mio avviso un fatto non irrilevante in questo tipo di indagine e l'altro effetto deleterio sul quadro sullo scenario della politica italiana è che anziché avviare la pacificazione a cui tutti puntavano per una transizione ordinata dello scenario politico italiano rischia di riaccendere il fuoco del conflitto e animare la lotta eterna tra Guelfi e Ghibellini che contraddistingue la vita pubblica italiana e adesso che succede dopo questa condanna per Berlusconi non politicamente perché abbiamo sentito del resto quelle che sono state le reazioni e che fanno capire che il Cavaliere resta al centro del quadrato oggi più che mai ma proprio dal punto di vista giudiziario una via crucis giudiziaria quella di Silvio Berlusconi per un processo che arriva a sentenza ce n'è sempre un altro che attende un nuovo e più difficile risvolto e il pesante verdetto di oggi non è l'ultimo atto sette anni interdizione perpetua dai pubblici uffici per concussione e prostituzione minorile mercoledì scorso la consulta che dice no al legittimo impedimento per l'ex premier a partecipare all'udienza del primo marzo 2010 del processo Mediaset e rinvia la parola alla Cassazione che entro la fine dell'anno deciderà sulla condanna definitiva dell'ex premier nel processo per i diritti tv lo scoglio più duro ora all'orizzonte è proprio questo la temuta Cassazione sul processo Mediaset lo scorso 8 maggio i giudici della seconda corte d'appello di Milano hanno confermato la condanna a 4 anni di reclusione per Silvio Berlusconi accusato di frode fiscale e a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici è il caso giudiziario più pericoloso il processo che rischia di escluderlo per primo dalla vita pubblica del paese anche se saranno poi gli schieramenti parlamentari ad avere l'ultima parola nella giunta delle immunità sulla ratifica della decadenza dalla carica di senatore giovedì prossimo è atteso un altro verdetto quello sul lodo Mondadori la Cassazione Civile dovrà esaminare il ricorso di Fininvest contro la sentenza di secondo grado con cui era stata condannata a versare 560 milioni alla CIR per la vicenda del lodo nello stesso giorno il leader del PDL dovrà affrontare l'udienza preliminare a Napoli per il caso della compravendita di senatori dopo che la procura ha chiesto il suo rinviaggiudizio con l'accusa di corruzione per aver versato in nero 3 milioni di euro a Sergio De Gregorio per mettere in crisi il governo Prodi prima la condanna media sette oggi rubi ma il 7 marzo scorso un'altra condanna per Berlusconi accusato insieme al fratello Paolo di rivelazione di segreto d'ufficio per la fuga di notizie della famosa intercettazione abbiamo una banca tra Fassino e Consorte ai tempi della scalata di Unipol alla BNL ma in questo caso quando si arriverà all'appello il reato sarà già prescritto oggi nel giorno in cui tutto il clamore e tutta l'attenzione era spostata su Milano e su questa clamorosa sentenza si è dimessa Iosefa Idem da ministro delle pari opportunità ha presentato le sue dimissioni Enrico Letta le ha accettate a meno di due mesi dal suo insediamento Iosefa Idem dà il suo addio al governo Letta dopo essere inciampata su una vicenda di presunti abusi edilizie e ci ha girata sulla palestra accatastata come prima casa con i relativi benefici fiscali le dimissioni del ministro per lo sport e le pari opportunità canoista oro olimpico arrivano al termine di un incontro di oltre un'ora con il premier Letta ho tenuto duro in questi giorni perché tanti mi avevano detto che questi momenti fanno parte del gioco ma la persona Iosefa Idem si sarebbe già dimessa da giorni per le dimensioni mediatiche spropositate quando sono salita dal presidente avevo già maturato la decisione di dimettermi ma comunque ho voluto condividere con lui la valutazione del quadro che si è venuto a creare Noa Doppi Standard aveva detto ieri il premier annunciando di averla convocata oggi a Palazzuchigi per risolvere insieme la questione un avviso di sfratto il premier infatti nei giorni scorsi aveva lasciato che la ministra si difendesse da sola poi ha avvocato a sé il caso intorno al ministro infatti il gelo degli alleati PDL ma non solo anche i democrat si tengono la larga qualcuno si spinge oltre avrebbe dovuto lasciare ed evitare di dare questa patata bollente al premier e su di lei pende già una mozione di sfiducia parlamentare targata Lega non è piaciuta la conferenza stampa convocata a Palazzuchigi con il suo avvocato al fianco un'immagine non proprio memorabile oggi un incontro di oltre un'ora tra la ministra e il premier leggerò le carte aveva detto Letta ieri ospite di Lucia annunziata carte finite anche sotto la lente della procura di Ravenna che ha dato mandato alla polizia municipale di compiere le verifiche sulla casa palestra la Idem entra in macchina a Palazzuchigi ed esce sempre in auto senza parlare nel frattempo infatti la sentenza rubia ha catalizzato l'attenzione il suo destino però ormai è segnato ho preso atto della sua decisione irrevocabile ha detto poco fa Letta sono certo che emergerà il suo rigore morale l'onore delle armi concesso alla ministra parte già il Totonomi ma il premier lo stoppa ho informato il presidente della Repubblica della mia intenzione alla prossima riunione del governo di ridistribuire le sue deleghe tra i ministri e quindi niente sostituto per la Idem Daniela Santanchini in un'intervista aveva già rivendicato per il PDL il posto del ministro delle pari opportunità invece appunto vedremo come saranno redistribuite le varie competenze e le deleghe tra i ministri già esistenti si parla della Lorenzin in questo momento come più accreditata ma si vedrà oggi però un altro fatto il PD aveva vinto tutta la prima sfilata di ballottaggi e di elezioni il primo turno per i comuni oggi c'erano gli ultimi tre ballottaggi dei comuni capoluoghi in Sicilia la situazione ha avuto un capovolgimento quasi completo se ha rivinto a Siracusa e il centrosinistra ha perso clamorosamente visto come era andato il primo turno sia Messina sia Ragusa dove per la seconda volta in un comune capoluogo in Italia Sindaco è un esponente del Movimento 5 Stelle niente cappotto il ballottaggio siciliano sanziona un 18 a 2 nella lunga sfida dei comuni 18 sono del centrosinistra ma gli altri due non segnano il gol della bandiera del centrodestra al contrario vanno uno ai 5 Stelle il comune di Ragusa e l'altro ai no ponte di una lista civica il comune di Messina ed è tutta racchiusa proprio a Messina la novità più evidente di questa ultima tornata elettorale siciliana perché è qui che lo sconosciuto candidato di una lista fai da te Renato Accorinti professore di educazione fisica e un movimento costruito su due parole d'ordine no al ponte sullo stretto e moralità nella politica è riuscito nella missione impossibile quella di battere con quasi il 53% dei voti la corazzata del centrosinistra comandata dal candidato Felice Calabro e sostenuta dalla bellezza di otto liste che al primo turno avevano sfiorato la vittoria mancata per una manciata di voti Beppe Grillo il nuovo sindaco di Messina lo avrebbe voluto nelle sue liste ma il professore Accorinti pare sia allergico a qualsivoglia regolamentazione e non se n'è fatto nulla oggi Grillo avrebbe potuto festeggiare due volte visto che a Ragusa e questa è la seconda grande novità della giornata è passato il suo candidato Federico Piccito che ha ottenuto qualcosa come il 70% dei voti contro il 30% del candidato del centrosinistra Giovanni Cosentini Ragusa a 5 stelle ha commentato Grillo per lui una giornata radiosa non fosse per l'ennesimo deputato che annuncia di abbandonare Adriano Zaccagnini a poche ore dalla scadenza per la restituzione della diaria ha salutato il gruppo 5 stelle alla camera e preso contatti col gruppo misto ma se Grillo può consolarsi con Ragusa il PD non può fare altrettanto con Siracusa perché è vero che qui il centrosinistra ha confermato il trend del primo turno e ufficializzato la vittoria di Giancarlo Garozzo ma è vera anche un'altra cosa che i risultati di Ragusa e Messina hanno scatenato una nuova polemica interna al PD non solo a guardare i dati sull'affluenza si evidenzia un vero e proprio crollo stavolta alle urne è andato appena il 46,19% degli aventi diritto il 21,72% in meno rispetto a 15 giorni fa Il governo a questo punto ha deciso sicuramente di allontanare lo spettro dell'aumento dell'1% dell'IVA almeno un rinvio di tre mesi sembra assicurato ma intanto il problema è che di nuovo i mercati sono tornati in fibrillazione e lo spread è tornato sopra quota 300 È stata una giornata a dir poco nervosa quella che si è appena chiusa a Piazza Affari con Milano che cede quasi un punto ma soprattutto lo spread torna a volare in alto oltre quota 300 Il livello massimo da aprile il rendimento dei BTP tocca il 4,84% ancora un record questa volta dall'inizio di marzo Brutto segnale in una settimana densa di aste di nostri titoli di Stato Certo tutte le borse europee oggi hanno chiuso in perdita e Milano alla fine ha fatto un po' meglio delle altre Mercati resi nervosi soprattutto da eventi che soffiano da Oriente La zampata infatti oggi è arrivata da Shanghai quando la banca centrale cinese ha gelato le attese di possibili interventi per contenere i tassi interbancari gli interessi che le banche richiedono per prestarsi soldi a vicenda dice Pechino i livelli di liquidità attuali sono adeguati non interverremo punto il timore di un credit crunch in Cina dove la metà dei finanziamenti passa dall'economia sommersa e non è quindi controllabile oggi ha dunque scatenato una caduta precipizio delle borse con Shanghai che ha chiuso a meno 5,30% non accadeva da quattro anni e Shenzhen a meno 6,46% tirandosi dietro il resto dell'Asia l'ennesima doccia fredda per la finanza mondiale che riaccende subito i nervosismi anche sulle piazze europee dopo i ribassi della scorsa settimana scaturiti dall'annuncio del presidente uscente della Federal Reserve Ben Bernanke che tra fine anno e l'inizio del 2014 saranno spenti alcuni stimoli chiave all'economia americana è chiaro che le borse oggi guardino con crescente preoccupazione alle tensioni finanziarie che si sono create in Cina tanto che l'agenzia Moody's lancia un allarme sulle possibili conseguenze per gli istituti di medie dimensioni che sono così crollati in borsa così come a Piazza Affari è crollato il titolo media 7-5,3% a fine giornata un dato su cui ovviamente ha pesato come un macigno in chiusura di contrattazioni la condanna di Silvio Berlusconi al processo Rubi Allora vediamo insieme velocissimamente i risultati del nostro sondaggio settimanale è ancora in testa ma perde lo 0,7% in una sola settimana il partito democratico 27,8% 5,8% più 0,2% per sinistra ecologia e libertà PSI stabile lo 0,6% altri più 0,1% il centro-sinistra quindi è al 35,2% il 27,8% del PD fa riscontro al 27% tondo del Popolo della Libertà che a sua volta perde lo 0,3% perde anche lo 0,5% al 3,6% la Lega Nord guadagna lo 0,1% all'1,9% Fratelli d'Italia e lo 0,6% all'1% la destra altri in centro-destra 0,8% stabili il 34,3% è il risultato complessivo per ora del centro-destra al centro meno 0,2% al 4,6% per scelta civica più 0,1% all'1,3% per Unione di Centro Futuro di Libertà 0,5% più 0,2% il centro guadagna complessivamente lo 0,1% al 6,4% il Movimento 5 Stelle perde lo 0,9% al 17,9% faccio notare che tutti i principali partiti PD PDL Movimento 5 Stelle e scelta civica perdono in rappresentanza dei vari poli guadagna invece come vedete complessivamente tutta l'area fuori dai grandi schieramenti rifondazione più 0,4% all'1,5% Italia dei Valori 0,8% più 0,2% Verdi 1% più 0,4% fare fermare il declino ritorna più 0,2% allo 0,7% altri partiti 2,2% più 0,1% la stensione sarebbe sempre molto alta 31,5% gli indecisi 14,5% la bianca 2,7% la fiducia in Enrico Letta ancora in ribasso 37,1% perché perdono tutti? unica domanda e velocissima risposta da Masia perché sono tutti in grande difficoltà e pagano anche le fatiche del governo legate sia alla questione idem ma poi alla difficoltà di trovare soldi e di incidere sull'azione governativa infatti guadagnano tutti i piccoli partiti ed è aumentata notevolmente anche l'indecisione che è quasi al 15% che cosa succederà al PDL dopo la condanna di oggi di Berlusconi? ma in passato Berlusconi è sempre stato capace di resistere a tutte queste vicende ma è chiaro che una goccia dopo l'altra è inevitabile che qualche conseguenza seppur decimale in qualche modo varrà pagata vediamo se nel brevissimo periodo oppure se nel medio termine grazie Masia allora vi devo ancora dire che poco fa ha intervenuto Obama ma direttamente per dire faremo di tutto per catturare Snowden vediamo cosa è successo oggi eccolo non poteva che essere avvolta nel mistero la fuga di Edward Snowden l'informatico che ha svelato il programma di intercettazioni illegali portato avanti dagli Stati Uniti dalle isole Hawaii ad Hong Kong alla Russia dello zar Putin la talpa del giornale inglese Guardian ha provato a depistare i suoi inseguitori prima facendo diffondere la notizia che dall'ala protettiva del Cremlino avrebbe cercato riparo nell'isola di Cuba poi che una volta a Lavana avrebbe chiesto asilo politico al vicino Ecuador o forse addirittura al governo islandese smentite conferme dunque che avvolgono ancora di più nel mistero questa spy story internazionale il fuggitivo più ricercato dalle agenzie di intelligence statunitensi sarebbe accompagnato o meglio scortato dalla giornalista britannica Sarah Harrison che lo assiste per conto del fondatore di Wikileaks Julian Assange tutti e due risultavano nella lista dei passeggeri che si sarebbero dovuti imbarcare sul volo aeroflot Mosca-Cuba ma come dimostra in equivocabilmente questo filmato che ritrae il posto vuoto assegnato a Snowden su quell'aereo i due non ci sono mai saliti il ministro degli esteri dell'Equador questa mattina ha reso pubblica una lettera di Snowden nella quale la talpa si paragona a Bradley Manning la fonte che ha ispirato Wikileaks e spiega di avere chiesto asilo al paese latino-americano perché negli Stati Uniti sarebbe improbabile che possa essere sottoposto ad un processo giusto Snowden al quale è stato annullato il passaporto americano viaggia con un documento da rifugiato rilasciato dal governo equadoregno dove sia nascosto in quest'ora è impossibile dirlo e non è possibile neppure sapere se i russi l'abbiano interrogato cosa che Assange nega un fatto è certo nessuno sa dove sia ora Snowden intanto gli Stati Uniti non nascondono la propria irritazione per una vicenda che sta indebolendo l'immagine del proprio presidente costretto a difendersi dalle accuse del congresso e dalle illazioni della stampa durissima la reazione della Casa Bianca quella di Hong Kong e della Cina di permettere a Snowden di partire violando l'accordo di estradizione esistente tra i nostri paesi ha detto il portavoce del presidente è stata una decisione deliberata che rappresenta un passo indietro nelle relazioni con gli Stati Uniti in Albania clamoroso successo dell'opposizione socialista ma se ne parlerà di più domani è stato finora scrutinato il 25% delle schede sicuro è successo di Edi Rama ex sindaco di Tirana ma noi abbiamo occupato già fin troppo tempo tra poco si torna a parlare della sentenza al processo Rubi a 8 e mezzo ospiti di Lili Gruber sono infatti Alessandro Sallusti che è il direttore del giornale e Peter Gomez direttore del fattoquotidiano.it un corrispondente straniero John Hooper di Guardian e la psicanalista Claudia Spadazzi ci fermiamo allora vi abbiamo detto proprio tutto vi ricordo ancora che dopo di noi a 8 e mezzo Lili Gruber riparla della sentenza Rubi con Alessandro Sallusti direttore del giornale Peter Gomez direttore del fattoquotidiano.it John Hooper che è il corrispondente di The Guardian da Roma la psicanalista Claudia Spadazzi ma c'è anche Massimo Franco editorialista principe del Corriere della Sera è tutto buonasera domani a tutti le 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 Grazie per la visione!